Si sono calati dall'alto ed hanno tentato il colpo in pieno giorno. È successo ad Arezzo, dove lo scorso sabato, attorno alle 12, si è consumato un tentativo di furto, obiettivo dei ladri la AMP di via Ernesto Rossi. In azione, due malviventi, che a volto coperto, sono riusciti ad entrare all'interno dell'azienda di metalli preziosi calandosi dal tetto. La fabbrica ovviamente era chiusa da settimane a causa del lockdown e al momento non aveva così in atto alcun ciclo produttivo. Naturalmente i titolari avevano anche svuotato, cavò e ripulito i tavoli di lavorazione. I banditi, una volta all'interno dell'azienda, hanno comunque fatto razzia di quel poco che era ancora presente, per lo più scarti di lavorazione, poi la fuga, ma a quel punto è scattato l'allarme. Sul posto, così, oltre alla vigilanza, sono arrivati anche i carabinieri di Arezzo. Al vaglio dei militari, adesso, le immagini registrate dalle telecamere di video e sorveglianza nel tentativo di riuscire a dare un volto agli autori del furto. La stessa azienda, circa un anno fa, era finita nel merino anche di un dipendente infedele che era riuscito a portare via dall'azienda oltre 200.000 euro in filamenti d'oro.